È tempo di bilanci per la Camera di Commercio di Arezzo e Siena, il 2019 è stato di fatto il primo vero anno di gestione, dopo la fusione, importanti i numeri dei servizi erogati alle imprese. Un'attività intensa, quella di quest'anno, con risorse ingenti investite sui territori, un'attività non solo amministrativa, da un punto di vista amministrativa io vorrei ricordare oltre 30.000 pratiche del registro imprese gestite, oltre 3.500 bilanci depositati in Camera di Commercio, 5.000 analisi, 27.000 certificati per l'estero, quindi una mola di attività amministrativa, ma come dicevo prima non solo, tanta attività promozionale, attività promozionale che si è basata sulle attività del futuro, quindi sul digitale, sul punto impresa digitale, qui abbiamo fatto dei bandi importanti, oltre 200.000 euro per le imprese del territorio di Arezzo, i bandi per l'alternanza scuola lavoro, e vorrei ricordare le tante iniziative ormai collaudate, storiche, i cardini della promozione del territorio, dalla Fiera Antiquaria, alla Fiera di Anghiari dell'Artigianato, alla Fiera del Mobile Antico di Cortona, quindi tante attività collaudate, storiche, su cui si è fatto tanto marketing turistico. Per arrivare alle ultime iniziative, le vorrei sottolineare, che hanno caratterizzato il Natale aretino, tutte le collaterali, dal mercatino tirolese al mercatino di Saiacopo, al mercato dei prodotti enogastronomici e dell'agricoltura, sotto i porti ci hanno visto tutte queste attività, un contributo della Camera, quindi un'attività importante, direi, a sostegno dell'economia del territorio. Sotto il profilo dell'economia del territorio schizza alle stelle il dato dell'export, soprattutto è importante l'investimento nell'ingotto, un dato però che va letto in chiaro scuro. Invito sempre un po' di prudenza anche sui dati dell'export, perché abbiamo uno scenario in rallentamento, questo export è molto condizionato anche dall'oro da investimento, quindi sono le banche che comprano, perché è sintomatico di una crisi in arrivo, quindi si cerca un bene rifugio che per eccellenza è l'oro, quindi c'è questo rastrellamento di lingotti da parte di investitori istituzionali, sistema bancario. E poi c'è la Brexit che indubbiamente anche per le imprese del nostro territorio avrà delle importanti ripercussioni. Per capire quelle che saranno davvero le ripercussioni dovremo aspettare i prossimi mesi per capire davvero come riusciranno a chiudere poi le trattative che sono in atto tra appunto il Regno Unito e la comunità europea, perché questo sarà evidentemente il nostro segnale di riferimento. Sappiamo già ad esempio che per quanto riguarda Borsa Italiana, che come sappiamo è una società che è partecipata in maggioranza appunto dalla Borsa Londinese, ci sono state diciamo delle dichiarazioni distensive di nessun arretramento, quindi evidentemente i mercati saranno sempre vicini. Ovviamente cercheremo di capire quanto e come.